Ciao amici, in questa puntata di Cosmo Bellagio voglio parlarvi di stima e di autostima. La stima che hai di te è ciò che più condiziona il giudizio che gli altri hanno di te. Chi ama se stesso ha spontaneamente una bella autostima, l'interessa conoscere il giudizio degli altri, ma senza temerlo se è negativo. Quando smetti di avere paura di qualcosa, ne divieni libero e anche i giudizi degli altri saranno sempre più positivi, più di quelli rivolti a chi invece fa di tutto per poter essere giudicato positivamente ma ha una scarsa stima di sé. Il timore del giudizio degli altri induce comportamenti inappropriati o falsi ed è uno spreco devastante della tua energia vitale. Se giudichi negativamente qualcuno, aspettati che anche lui ti giudichi negativamente e sorprenditi se avviene il contrario, potresti essere di fronte a una persona straordinaria. Chi ama, chi si ama, smette di cercare continuamente l'approvazione degli altri. Quello che conta realmente, anche per la sua energia e vitalità, è l'approvazione che dai a te stesso. Ma se sei ancora convinto che per poter approvare te stesso tu debba prima essere approvato dagli altri, allora sei in un bel guaio, perché sarà molto difficile per te riuscire ad amarti se continui a volere dipendere dagli altri. Il giudizio positivo degli altri è l'effetto del giudizio positivo che sai dare a te stesso. E i trucchi utilizzati per cercare di apparire diversi o migliori di quello che si è durano poco, devastano la propria energia vitale e sono del tutto inefficaci e controproducenti su chi sa amare, su chi vale tanto. Se vivi di bugie potrai attrarre a te solo chi a sua volta vive di bugie. Inizia a produrre più pensieri felici rivolti a te stesso, indipendentemente da qualsiasi altra cosa, persona o esperienza. A pensare sempre meno a ciò che temi o di cui hai paura e sempre di più a ciò che ami e che ti dà gioia. Usa la tua immaginazione rivolta al futuro. Invece di pensare alle persone che conosci, pensa a quelle ancora sconosciute che vuoi conoscere. Essere felici indipendentemente da tutto è nella tua natura. Essere infelice a causa di qualcosa no. La tua autostima e amor proprio dipendono da quello che credi e pensi di te stesso. Pensa a cose belle di te, sarai sempre meno emotivamente dipendente dal giudizio di altri. Il nostro inconscio può arrivare a credere vera a qualunque cosa che sia stata vissuta, vista, ascoltata, detta, pensata, immaginata. È indifferente. Pensare e immaginare cose belle di se stessi fa aumentare la propria autostima, energia vitale ed aumentare le probabilità quantistiche di vivere proprio le esperienze associate a ciò che si è saputo pensare e immaginare. Avere bisogno dell'approvazione degli altri significa aspettarsi di ricevere dagli altri ciò che si è incapace di dare a se stessi. È assurdo, dispendioso e troppo faticoso per chiunque. Per questa puntata è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Bellagio e alla prossima puntata di Cosmo Bellagio. Da Narita un grosso ciao.